buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 13 ottobre 2023 che si festeggia oggi oggi si festeggia santeofilo di antiochia lo vediamo qua nell'almanaco del giorno con la grafica un vescovo un vescovo di antiochia ebbene santeofilo visse nel secondo secolo padre della chiesa fu autore di numerose opere di carattere apologetico opere in parte si sono conservate in parte purtroppo sono state perse distrutte nel corso dei secoli ed ora vediamo le previsioni del tempo ecco la grafica abbiamo tempo stabile con velature di passaggio e locali nubi basse al mattino lungo le coste le temperature sono stazionarie 15 la minima 23 la massima e nell'interno i venti ispireranno da sud est mentre nella costa da nord est il mare è leggermente mosso da un situazione del tempo che è un po la fotocopia di quella di ieri e oggi apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad un problema che è un po un problema comune in tutta la provincia quello delle antenne della telefonia mobile antenne che sono necessarie per assicurare le dovute connessioni ma antenne che stonano spesso per quanto riguarda l'impatto ambientale e per quanto riguarda anche così affermano alcune persone la salute dei residenti ebbene fano il comune di fano ha bloccato due antenne la cosa non è molto frequente e quindi merita il dovuto rilievo e vediamo oggi la prima pagina del giornale eccola qua antenne ilia de vodafone stop alla loro installazione dice appunto il corriere adriatico il comune ha bloccato i lavori sul campanile del duomo vediamo qui la fotografia e via capellini a sud del fiume metauro quella del duomo e di iliad quella a sud via capellini a sud del fiume metauro e della vodafone c'è una certa confusione dobbiamo dire per quanto riguarda la normativa che regola l'applicazione l'elevazione delle antenne da una parte abbiamo un articolo che liberalizza completamente la scelta dei siti a seconda delle modalità di funzionamento appunto dell'impianto stesso dall'altra invece abbiamo delle possibilità dei comuni di predisporre una organizzazione preventiva queste due cose confliggono e infatti spesso si ricorre al tar tar che spesso però dà ragione alle ditte stesse in quanto il loro servizio viene considerato un bene primario per tutti i cittadini quello appunto di assicurare le connessioni in questo caso il comune ha reagito vedremo ora gli atti che faranno le operatrici le ditte operatrici di questo sistema se accetteranno la delibera che ha assunto il comune oppure ricorreranno al tar antenne ilia de vodafone stop alla loro installazione e parliamo di piano regolatore generale perché poi il piano regolatore il piano che ha realizzato l'amministrazione comunale per la distribuzione delle antenne dovrebbe essere anche inserito nel piano regolatore generale ebbene il piano regolatore generale però deve essere ancora approvato e c'è stata una riunione una vediamo qui il titolo c'è stata una riunione da parte di tutta la commissione consigliare per così programmare il cronoprogramma per l'approvazione di questo importante atto dell'amministrazione seri ultima riunione informativa sul nuovo piano regolatore la commissione consigliare si è confrontata l'altra sera in municipio su ulteriori approfondimenti per quanto riguarda l'approvazione di questo importante atto se il sarà dotato entro la fine dell'anno come appunto nelle intenzioni della maggioranza l'amministrazione fanese avrà poi quattro anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole in tale modo il piano regolatore di fano eviterebbe il rischio di eventuali intoppi ecco perché c'è questa corsa ora ai rush finale per riuscire a provare questo importante atto che è in corso di elaborazione ormai da nove anni centro storico azioni positive e coordinate in sinergia vediamo l'articolo di spalla abbiamo una dichiarazione del sindaco massimo seri che dà la sua soddisfazione per l'impegno con cui le forze dell'ordine stanno eseguendo i controlli in modo particolare in centro storico a fano dopo l'ultima azione in piazza amiani c'è questo intervento del sindaco il quale afferma le ultime operazioni delle forze dell'ordine hanno portato ad un risultato positivo questo è frutto del percorso che abbiamo avviato da tempo un percorso che ha sollecitato anche la prefettura ad organizzare alcune riunioni della commissione di sicurezza per coordinare appunto tutte le forze disponibili per frenare questo aumento della piccola e media criminalità nella città di fano le altre notizie riguardano il mondo politico ecco qua il titolo che appare nella seconda pagina del corriere prima il programma condiviso poi il candidato c'è stata una parte del centro sinistra che si è riunita nella sala del cubo a san lazzaro una riunione che è stata organizzata dall'ampi il qua la quale ha chiamato le forze di forze progressiste a comunque a cercare una condivisione per presentarsi unite alle prossime elezioni amministrative in sostanza una prova di campo largo tra partite liste progressiste c'erano però diverse assenze significative infatti il sindaco e alcuni suoi sostenitori non si sono presentati e questo ancora lascia un po lascia evidenza non un po lascia in modo chiaro evidenza come ancora nel centro sinistra esistono delle divisioni dei distingui comunque si tratta di superare questa situazione di stallo in modo da contrastare poi il centro destra gli assenti unanime l'auspicio che possano esserci ai prossimi confronti tutte le componenti del centro sinistra il programma condiviso precede l'individuazione del candidato sindaco lo ha detto teodosio auspici di fano ribella e il concetto è stato ribadito anche da altri interventi c'è stato anche un intervento di renato claudio minardi segretario del partito democratico il quale ha detto dispiace che non ci sia il centro sinistra al completo insomma sono tutte palpabili ancora le frizioni sui temi come sanità biodigestore variante gimarra ruolo della città tra pesaro e fano insomma sono situazioni ancora che scottano e devono essere sanate vedremo che cosa accadrà vedremo che cosa accadrà passiamo ora a fossombrone dove si dà il via ecco qua il titolo dove si dà il via ai giardini di viale cairoli dopo i ritardi ora si parte cambiata la ditta paltatrice entro 15 giorni si dovrebbe dare l'avvio al cantiere a fossombrone entro il mese dunque si insedia questa nuova ditta che dovrebbe completare l'intervento di viale cairoli un intervento che riguarda la ripulitura e la sistemazione delle opere dello scultore forsempronese bruno bianchi e si tratta anche del busto si tratta soprattutto del busto di anselmo bucci e della fontana centrale caratteristica com'è come è stata realizzata è un'opera cara a tutti i forsempronesi e poi abbiamo a colli al metauro invece l'adeguazione sismico per la scuola rodari asilo e materna previsti anche interventi di efficientamento energetico cantieri aperti per l'adeguamento sismico di questo di questa struttura che accoglie la scuola materna e l'asilo nido comunale risultati davvero di tutto rispetto nel primo caso il comune ha ottenuto un contributo di 600 mila euro e ha cofinanziato l'opera per altri 100 mila nel secondo il finanziamento ministeriale a fondo perduto è stato di 700 mila euro giriamo la pagina siamo sulla val cesano a pergola una imprenditrice pergolese si è fatta strada si è fatta luce e ha ricevuto il premio adriatico per il brand mangrè in rappresentanza delle marche che cos'è il brand mangrè è un brand di prodotti professionali per le unghie nato nel 2020 artefice del progetto innovativo e di successo all'imprenditrice greta mancinelli giovane e tenace donna pergolese di 33 anni eccola qua con il suo diploma in mano cronaca ruba una borsa e fa shopping con il bancomat ebbene un ladro ha rubato da un'auto in sosta una borsa contenente contanti contenente anche documenti tra cui la tessera del bancomat e allora ha approfittato ha fatto tutta una serie di acquisti da 50 euro in diversi negozi della città a mondavio sapete il processo è quello di appoggiare il banco ma soltanto sullo schermo quindi senza digitare il codice fare piccoli acquisti magari numerosi e quindi sottrarre parecchi soldi dal conto della derubata comunque sono stati decisivi da parte dei carabinieri le acquisizioni delle immagini delle degli impianti video disparsi nella zona per individuare il ladro e così è stato fatto vediamo anche la pagina di senigallia dove l'apertura è dedicata eccola qua al villaggio della salute e città gourmet una città dedicata alla enogastronomia abbiamo visto anche nei giorni scorsi ebbene sono delle manifestazioni per il fine settimana molto importanti un sabato da copertina dice il corriere adriatico infatti domani in piazza garibaldi ci sarà la tappa di one health on al foro il grande tour delle marche con tutte le tipicità gastronomiche della nostra regione ovviamente anche di senigallia sulla pagina della regione del corriere adriatico vediamo un rapporto sul mondo del lavoro marche in controtendenza c'è più voglia di assumere per ottobre i contratti sono ancora in leggera crescita tira soprattutto la ristorazione e dopo un'estate altalenante dobbiamo dire dove si è assunto si è assunto soprattutto a contratti determinati l'autunno non è deludente l'autunno ha proseguito questo trend di assunzioni e abbiamo qui l'evoluzione delle entrate mensile previsti vediamo dei picchi che si sono avuti nelle 2021 a per 13 mila mentre siamo nel 2023 insomma siamo poco poco al di sotto ma una tendenza al rialzo non trovo un cameriere disposto a servire a servire sul sette l'ho detto fabrizio balanca co fondatore manager del ristorante di fabriano e quello dei cuochi dei camerieri dei ristoratori è un problema che ancora non si riesce a risolvere nonostante che ci siano ancora dei disoccupati si vede che questi posti veramente non attraggono e intanto il turismo resiste il turismo resiste ci dice il corriere adriatico resiste al clima impazzito ebbene è un clima però favorevole questo alle gite magari nei weekend alle gite fuori porta alle piccole vacanze che uno si può permettere perché ancora il clima è prettamente estivo e questo ha spinto gli stranieri a venire ancora nel nostro territorio infatti il trend dice che gli stranieri sono aumentati dell'8% la regione presenta i dati gennaio agosto al tg travel experience di rimini calo di arrivi inferiore all'1% acqueroli sfida vinta nonostante l'alluvione e nonostante tutti i problemi che ci sono verificati e poi c'è stata anche la guerra insomma tutto quello che accade nel mondo che ha ripercussioni in diverse località delle Marche una statua per Pavarotti davanti al teatro Rossini e quello che ha deciso di realizzare il sindaco Matteo Ricci la statua emblema del più noto cantante al mondo di questo secolo al momento almeno per l'opera lirica che si intona ovviamente con la funzione del teatro Rossini l'annuncio di Ricci e Vimini nel giorno dell'ottantesimo compleanno del maestro e a proposito di compleanni dobbiamo dire che nel 2024 il 29 gennaio anno bisestile si celebrerà con grande pompa con grande evidenza siamo nel quadro delle celebrazioni di Pesaro capitale nazionale della cultura il compleanno di Gioacchino Rossini per il San Benedetto il comune accelera e sferza la regione acquisirà le parti dell'azienda sanitaria territoriale per realizzare delle residenze sociali la delibera va in consiglio una partita questa che vale 3 milioni di euro Mattioli fatta la nostra parte ma gli altri Anna Maria Mattioli dice questo ma gli altri che cosa decidono di fare e la risposta quindi deve ancora venire a questo problema giriamo la pagina e parliamo di autismo parliamo di autismo un problema sociale un problema sanitario che è comune a diversi centri della regione del regione Marche della nostra provincia strapieni i nuovi centri diurni bloccando via Alfano si è perso tempo lo dichiara l'assessore al welfare Luca Pandolfi le famiglie sono in difficoltà perché non trovano le strutture adatte Pandolfi conferma il valore della sentenza del consiglio di stato questa è una sentenza storica rivoluzionaria che il consiglio di stato ha dato sui diritti dei bambini e giovani che soffrono appunto di autismo riceveranno un tipo di terapia gratuita un finanziamento record di 600 mila euro di fondi statali da destinare al cons al sostegno delle persone colpite un sostegno questo non solo alle persone ma anche alle famiglie su cui gravita su cui grava voglio dire in maniera pesante tutto il peso dell'assistenza di questi ragazzi ecco perché questi centri diurni sono particolarmente utili sono particolarmente necessari per attuare almeno una vita degna di essere vissuta in centro il presidio blindato per la palestina questo articolo ci riporta un po' alla cronaca nazionale che i giornali evidenziano su tutte le prime pagine per quando sta accadendo in israele niente piazza del popolo ci sarà una manifestazione però in piazzale con l'enuncio ebbene il centro blindato per la palestina perché ci sono anche dei manifestanti che manifestano in favore del popolo palestinese forse anche lui vittima di hamas e in questo momento si trova veramente in una situazione disastrosa per quanto riguarda questo conflitto atroce da una parte bambini decapitati dall'altra milioni di persone senza acqua senza luce insomma sotto i bombardamenti e via dicendo ma quelle sono notizie di cronaca nazionale e non tanto ragazzino lo accusa di avanso in chat l'annatore finisce di nuovo nei guai una vicenda che viene rievocata dal Corriere Adriatico per quanto riguarda questo tipo di addescamento che si è verificato in passato si tratta di un 14enne aveva 14 anni all'epoca dei fatti che sarebbe stato avvicinato con intenzioni non chiare da parte dell'allenatore di tennis mi sembra di ricordare per quanto riguarda questa vicenda l'uomo aveva già patteggiato per radescamento di minori il 14enne ha denunciato videochiamate e messaggi non risponde un 43enne trovato morto in casa il figlio non rispondeva al cellulare il padre allarmato va a casa e lo trova deceduto è successo questo nella tarda mattinata di ieri in centro in un'abitazione a schiera lungo via De Gasperi in un appartamento a piano terra la vittima è un uomo di 43 anni si chiama Luca Ciancamella quando la polizia è entrata per un sopralluogo l'appartamento risultava in ordine non sono trovate tracce di di collutazione né problemi insomma che cosa può essere accaduto ancora non è chiaro probabilmente un malore quindi un caso di morte naturale probabilmente però le indagini sono in corso vediamo anche la pagina di Urbino la discarica così non si può fare viti se la prende con la provincia a parlare così e l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi che dice io sono contrario alla discarica di riceci l'ho detto mille volte e non capisco perché la vitri se la prenda se la prende con me se la prenda con marche multiservizi se la prende con la provincia se la prende con Aurora io sono contrario sono dalla sua parte o cioè lei è dalla parte della mia insomma e le nostre idee combaciano e vengono condivise e quindi io sono estraneo ad ogni accusa che mi si rivolge detto questo chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino vediamo che l'apertura è dedicata all'inizio di nuovi lavori sono molti lavori che vengono iniziati in questo autunno l'ultimo autunno della giunta seri e quindi molti progetti giungono al stato finale uno di questi è il consolidamento anzi diciamo il rifacimento della tribuna della pista Zengarini eccola qua questa tribuna che non è mai entrata in funzione qui vediamo delle persone sopra però insomma è una foto un po' particolare perché la tribuna risultava inagibile partono finalmente i lavori con un mese di ritardo al Zengarini si ristruttura tutta la gradinata che 30 anni fa era nata già zoppa già insomma sembrava che insomma la ditta che l'aveva costruita non avesse osservato completamente i termini del progetto e beh sarà rifatta completamente all'interno conterrà gli spogliatoi e quindi qui potranno svolgere le gare veramente gare di elevata qualità a livello nazionale in questo stupendo impianto che viene completamente ristrutturato poi verrà fatta anche una nuova una nuova palestra dall'altra parte della pista per le sedute indoor e torniamo alla politica torniamo alla politica perché vediamo che De Leo vuole organizzare oggi un incontro con Stefano Aguzzi con il centrodestra Stefano Aguzzi non ci sta si smarca e non andrà a questo incontro era previsto alle ore 17 per oggi e quindi cosa si fa invece di fare un incontro senza il maggiore interlocutore l'incontro si rinvia ci vuole un po' la volontà di tutto il centrodestra per avere una visione unanime anche sul candidato oltre che sul programma e quindi se ne riparlerà nei prossimi giorni è stato scoperto dalla università di Urbino di Ancona scusate a cui è stato commissionato un lavoro è stato scoperto una perdita d'acqua nella fogna romana limitrofa alla chiesa di San Pietro in valle forse è questa la causa dell'umidità che non si riesce a bonificare all'interno della chiesa infiltrazioni d'acqua nella chiesa ma si aspetta la soprintendenza e la magnifica struttura barocca di San Pietro in valle una delle chiese più belle veramente chi non l'ha vista mi creda sulla parola una delle più belle chiese delle Marche nel 600 in Via Nolfi di proprietà del comune di Fano una perdita d'acqua in una antica condotta romana che corre sotto Via Nolfi ebbene questo sembra emergere dallo studio condotto dalla Università Politecnica delle Marche che sta conducendo sotto incarico del comune di Fano tutta una serie di analisi di accertamenti per cercare veramente l'origine dei problemi che interessano San Pietro in valle ed ora almeno questa potrebbe essere una causa o almeno una concausa per correre ai ripari lavori fermi per la piazza Giardino dell'ex AGIP l'assessore Brunori attende il risponso della soprintendenza dovevano partire proprio in questi giorni i lavori per il progetto di riqualificazione dell'area ex AGIP ma all'ultimo minuto si capisce perché all'ultimo minuto è intervenuta la soprintendenza che ha avvocato a sé tutti gli atti del progetto e speriamo che il parere della soprintendenza non giunga alle calende greche perché di solito è un parere laborioso che richiede tempo e procrastina assai poi la realizzazione del progetto dovevamo già partire. Invece sta per partire il sindaco Massimo Seri il quale va in Polonia e poi a Kiev. Ebbene partecipa ad un incontro con altri sindaci per promuovere la pace e dare solidarietà al popolo l'Ucraino ormai in guerra dal febbraio del 2022. Il primo cittadino di Fano sarà nella capitale nelle giornate di domani domenica 15 ottobre dove interverrà in rappresentanza del Lanci Marche del forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio. Il sindaco Massimo Seri rappresenta queste entità che raggruppano diverse regioni per quanto riguarda l'Anci e raggruppano diverse nazioni per quanto riguarda il forum delle città dell'Adriatico quindi svolge un ruolo particolarmente rappresentativo. E con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre domani alle ore 7. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.